Sbaglia gli accenti, sbaglia gli accenti, è straniero, sbaglia gli accenti. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Sì, perché le parole hanno un loro accento, hanno un loro senso e qualche volta le persone straniere mentre leggono, parlano, sbagliano gli accenti e capisci che sono in difficoltà. Ma questo che cosa ha a che fare con un caffè? Due idee mi sono venute in mente. La prima è che gli accenti contano, quindi le sottolineature, quegli aspetti particolari che nella parola, nel linguaggio, a volte si nascondono, in realtà contano. Cosa sono gli accenti nella nostra vita? Sappiamo mettere gli accenti sulle situazioni, i comportamenti importanti? Sappiamo scegliere il modo giusto per presentare le cose? Come va la nostra comunicazione? Perché se sbagliamo l'accento, è, si sente, come se si sente. E poi, poi che ci accorgiamo subito di qualcuno che è straniero, qualcuno che non è del nostro mondo perché sbaglia gli accenti, e qual è il nostro comportamento? Perché in fine di conti siamo anche noi stranieri in mondi altrui, e quindi possiamo anche noi sbagliare gli accenti, i modi, i gesti, i tratti, tutto quello che dentro l'accento, dentro la parola accento è nascosto come immagine. Sappiamo riconoscerci stranieri e avere indulgenza con gli altri stranieri per noi, così che possano averla con noi? Che cosa ne dite? Buongiorno, buongiorno e buon caffè!